La partita è ancora aperta. Con queste parole, lunedì sera, nella diretta TRG dello Spoglio elettorale, il candidato sindaco a Gubbio del centrodestra, Marzio Presciutti Cinti, dava appuntamento al 9 giugno per il ballottaggio, facendo intendere che quel 22% lasciava spazio a scenari ancora ampi, non ultima, alla vittoria. Con il suo 13,95%, la Lega è il principale azionista di questa coalizione e quella che ora lancia la volata. Assolutamente nulla è ancora detto. Abbiamo visto Rovici cinque anni fa in un recupero mostruoso e domenica scorsa ha vinto col 60%, quindi certi progetti si iniziano anche in condizioni un pochino più difficili. Io credo che a Gubbio ci sia stata una bella risposta da parte dei cittadini. Chi vuol cambiare con un sistema ormai veramente stanco e marcio, come abbiamo anche letto sui giornali, deve votare Marzio Presciutti Cinti, deve votare chi sostiene la Lega, perché fra tre mesi cambieremo anche l'Umbria e mi pare che rimanere ancorato a vecchi schemi possa equivalere a rimanere un po' indietro fra qualche mese quando tutta la regione cambierà volto. Si guarda possibili alleanze o comunque accordi per riuscire a superare il gap con stirati che si presenta al ballottaggio con il 39%. I colleghi di governo, i Cinque Stelle, hanno già detto che non daranno indicazioni di voto ai loro elettori, ma è chiaro che il centrodestra guarda loro con interesse. Chiara invece è anche per la Lega la volontà di non confondere la propria identità con quella della sinistra che ha amministrato l'Umbria, ma non solo con loro. Gli interlocutori che non sono e che non si riconoscono nel sistema di sinistra Umbro sono tutti, ne parliamo con tutti. Chiaro che non sentiamo la necessità di vendere l'anima al diavolo. Se c'è un intento comune di dare veramente una opportunità grande a una bella città come Gubbio per poter cambiare, siamo a disposizione. Certo non lo facciamo con chi cerca vendette. Noi non siamo il partito che tiene dentro coloro che hanno altri obiettivi se non il bene del territorio e del comune. Chi cerca vendette sul sindaco Stirati si deve combattere da solo le proprie guerre. Noi siamo qua con senso di responsabilità per amministrare bene Gubbio.